senza perdere tempo sentiamo il dottor ted noel su una normale mascherina chirurgica usando la vape come potete vedere questa vape che è aerosol della stessa grandezza cove di 19 o più grande passa attraverso e attorno alla mascherina chirurgica ora se prendiamo una mascherina protettiva osserviamo attentamente possiamo notare che il vapore passa attraverso e con facilità in qualsiasi direzione aerosol non viene influenzato dal materiale della mascherina ora osserviamo la mascherina chirurgica con la striscia di protezione sopra che tiene il naso per impedire agli occhiali di annebbiarsi abbassiamo il sotto e l'aerosol si espande attorno alla mascherina non ha alcun effetto perché l'aerosol arriva da me fino a voi ora una mascherina di stoffa che ho preso da mia moglie ancora una volta ecco qua boom passa attraverso e d'attorno senza alcun effetto nel diffondere l'aerosol va dovunque e adesso andiamo alla mascherina per sorveglianti con materiali dei filtri ad alta efficienza vediamo questa osservate attraverso e attorno senza avere alcun effetto sul vapore dell'aerosol che vi ricordo è della stessa grandezza o più grande adesso non ho altre maschere a carbone se non questo respiratore sul quale posso mettere qualsiasi tipo di cose ma non importa perché quando espirate fuori tutto quanto passa attraverso la valvola e sapete una cosa può proteggere me da voi ma la ragione è che non protegge voi da me ma vediamolo ancora sì qualsiasi mascherina con la valvola di sfiato permette sempre la diffusione verso di voi e i vicini non ha assolutamente alcun effetto grazie a tutti